Signor, signora, permettete una parola? Dica! L'ho vado per Cinecittà dove stiamo girando un film americano. Stiamo cercando delle comparse per una scena di massa. Anzi, il suo piace deve provare. Metti che la nota un grande regista e diventa un'attrice famosa. La prossima! Dove che farlo sto film? È una storia d'amore. Diciamo. Ovvio la cena finale. Che succede? Lo scoprirai presto. Giuseppina ha chiesto di lei. Sono tutti così gentili con me. Did you like it? Le è piaciuto? Sì, tanto. Come ti chiami? Mi lo sa. I was looking for you, and then I found you. You need a rebel. Take me with you, wherever you go. You must base your fear. No, 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 no. That's why. Come here. It's that. You must base your fear. Grazie a tutti.